Amici salve! Allora, nuovo credo weekly vlog ma non c'ho cose particolari da farvi vedere, giusto così per farci compagnia come al solito. Come state? Scrivetemelo sempre sotto. E nulla, io mi sono fermata un attimo perché sto facendo il mio spuntino barra pranzo e dopo devo, praticamente sono rimasta a mangiare fuori oggi. Ho preso dei cosi ganzissimi che ve li voglio fare vedere, ma perché me li sono quasi, no li ho finiti praticamente, ne è rimasto uno. Questi cosi, che rigamonti, non so che cos'è, praticamente sono degli stick di bresaula col peperoncino. Ragazzi, sono una cosa spettacolare, guardate, fanno un po' senso, sono strani, sono tipo dei salamini, ma solo io le scopo queste cose, veramente. Però sono ganzi, c'è 16 calorie per stick, possono stare fuori dal frigo, quindi praticamente è un tipo di snack che, magari se mi faccio dire, che vi potete portare appresso. Ovviamente proteico, ma guardate che ganzo sto coso, cioè, boh, stavano in promozione tipo 1,50 euro, sono 50 grammi di prodotto. E poi, vabbè, mi sono presa questo qua, lo Sveltesse, che io questi qua praticamente li amo, dopo me lo bevo. Questi qua ve li straconsiglio, ragazzi, perché veramente, cioè, non lo so, sono buonissimi. E poi hanno 20 grammi di proteine, non che io stia facendo una dieta particolarmente proteica, però sto attenta, quindi, cioè, devo stare attenta a queste cose. E dato che non mi sono portata snack appresso e niente, mi sono fermata al supermercato e ho trovato questi qua in offerta. Io ve li straconsiglio, ecco, così lo vedete, ve li straconsiglio, piacciono tanto pure essendo subito questi qua. Questo è Tropical Zenzero, ci stava pure a frutti rossi, ma mi piace di più Tropical Zenzero. 0,3% di grassi e 20 grammi di proteine per bottiglia. Come calorie per bottiglia siamo sulle 133 calorie, quindi non è nemmeno tanto, perché comunque, se pensate che uno yogurt classico, normalmente sui 150 grammi, comunque vi fa un 130 calorie, quindi è buono. E mi pare che sto a fare i consigli per gli acquisti nei vlog, però mi piace condividere queste cose con voi. Ma mi sono trovata qua, non stavo facendo nulla, devo aspettare praticamente, quindi dopo mi vado a fare un attimo un giro qua al centro commerciale, perché devo, praticamente, vi dovrei spiegare tante cose, comunque sto facendo tipo dei corsi, insomma sto facendo io dei corsi. Però praticamente, insomma, ho degli orari un po' particolari, quindi rimango qua direttamente, quando ci sta lo stacco da mattina e pomeriggio, resto direttamente qua. Ah, vi volevo far vedere la giacchina nuova che l'ho messa, è comodissima, mi piace tantissimo sta giacchina, e poi è perfetta in questo periodo qua. Tra l'altro è abbastanza calda, quindi mantiene bene, insomma. Questa qua ve l'ho fatta vedere, non so se ve l'ho fatta vedere o ve la farò vedere, no, penso di metterlo prima quel video là, però, perché ce l'ho già registrato e ve lo metterò sicuramente prima di questo. E poi vi lascio il pallino lì dove uscirà, del, diciamo, ho fatto un piccolo haul sempre zalando, perché ormai zalando, ragazze mie, me l'avete consigliato, avete fatto il danno, perché purtroppo zalando mi piace, mi piace l'idea di, essendo io una taglia particolare, poter comunque provare le cose e mandarle indietro nel momento in cui non mi dovessero andare bene, ma stavolta sono stata fortunata perché mi sono andate bene due cose su due, di cui una è questa giacchina qua, è nulla, comunque l'ho pagata poco, l'ho pagata sui 30 euro, ed è della Only questa qua, e poi, no, è molto carino, io ve la dovrei far vedere, ma è un po' difficile così, mi piace perché cercavo qualcosina un pochino più caruccio, insomma, qualcosina che fosse carino, leggero, al posto del solito giubbino di jeans, perché io di solito uso sempre i giubbinetti di jeans, e di jeans, sì, buonanotte, rosa, dei similpelle, di pelle, insomma, di similpelle, perché non me la posso permettere la pelle, comunque no, preferisco quelli similpelle, però questi qua, queste giacchine così, mantengono anche un pochino più caldo, quindi secondo me sono più confortevoli rispetto ad una comune giacca di pelle, perché di solitamente la giacca di pelle è buona nella mezza stagione, ma è fredda, quindi la mattina presto da casa mia fa freddissimo, quindi quando parto è nulla ragazzi, non mi voglio tediare, io adesso mi vado a fare un giretto, mi bevo il mio cosarillo qua, questo qua, che è buonissimo, e poi ci vediamo, non so se è più tardi o comunque in questi giorni, oggi praticamente è martedì, e niente ragazzi, io vi saluto e poi ci vediamo in altre parti del vlog, ciao! Amici, buonasera, allora, praticamente, oggi poi sono tornata da, mi sono fatta se, avete visto un piccolo giretto da Epicasa, e evito di riprendermi in faccia stasera, perché praticamente ho qualche bollicina, ma non sono bollicina, penso che mi abbia appunto qualcosa, qualche animaliccio, bastardiccio, perché praticamente qui le temperature sono scese tantissimo, ma ho notato che ci sono ancora le zanzare, cioè, ditemi voi se è mai possibile, questi animalini di molta costanza, affetto, vabbè basta, andiamo avanti, non voglio essere volgare, comunque mi hanno fatto una puntura proprio sul labbro, cioè, tra il labbro e il naso, ecco, e vorrei evitare di farvi vedere quella cosa, e quindi vi faccio vedere queste cose che ho trovato, cioè, no, guardate qua ragazzi, allora, queste sono delle scatole che ho trovato da Epicasa a 2,99€ l'una, non so quanto siano grandi costruite, però le vedo pure, le vedo abbastanza buone per il cambio di stagione, o comunque per metterci qualcosina dentro, guardate, sono 51x37x24 cm di altezza, secondo me non sono piccolissime, cioè, sì, vabbè, sono tipo rettangolari, vedete, però io quando le ho viste, cioè, guardate, sono bellissime, no, vabbè, guardate anche quest'altra, cioè, ne ho prese due perché poi alla fine se le stavano facendo tutte quante, perché poi erano rimasti, erano rimasti altri tipi, però io ho visto questi con gli orsetti, no, guardate, cioè, ma ci rendiamo conto? non so se ci rendiamo conto, sono bellissime, guardate, li sono stupendi, va bene, basta, io ho una certa età, quindi, stavo, praticamente, mi stavo bevendo la mia tazzina qui di tisanina preserale, adesso mi stavo mettendo, mi accingevo a riportare un pochettino le cose che ho già scritto su questa agenda, vedete, ho già preso appunti qua, però, io l'amo questa agenda, mi piace tantissimo, perché è piccolina, è comoda, soltanto che avevo bisogno di un poco di spazio in più, ve l'ho detto pure nel video, insomma, dove ve l'ho fatta vedere, e vi devo dire che con questa qua mi trovo bene, amici, buonasera, ciao, allora, questo, beh, lui sta sempre qua, cioè, ormai si è affezionato, non ce la togliamo più da mezzo, sto guardando un pochino di tv, veramente, mo l'ho accisa, mi sono seduta un attimo e mi stavo a fare la tisanina, come avete potuto vedere, poi mi sto sistemando un pochettino le agende, allora, oggi è giovedì, giovedì, praticamente c'è stato un salto temporale nello spazio, nel tempo, non ci fate caso, ma voi lo sapete che i miei weekly blog sono un pochettino, perché praticamente in questi giorni abbiamo lavorato, quindi non sono riuscita nemmeno a riprendervi nulla, volevo farvi pure vedere qualcosa che facciamo qua a casa in campagna, però poi non so se vi può interessare, ma sono, cioè, alla fine lavoriamo, non è una cosa bella da vedere, comunque non era previsto, però abbiamo dovuto mettere il grano, cioè seminare, noi facciamo questo, e quindi sostanzialmente poi, insomma, oggi poi sono andata un'altra volta a fare quei corsi, insomma, che vi avevo detto, e in pratica io sto distrutta, perché io stasera proprio K.O., non ce la faccio più, però mi sono dimenticata poi di farvi vedere, perché sono uscita con Santo Subito ieri pomeriggio, sì, ieri pomeriggio? No, l'altro ieri pomeriggio, abbiamo comprato delle cose, vi volevo, non mi è venuto in mente di farvi un piccolo vlog, perché poi ci siamo fatti un giretto e siamo andati pure da Piazza Italia, però penso che quel vlog là ve lo faccio a parte, perché poi vi abbiamo fatto vedere un poco le varie offerte, quindi non so se lo metterò prima o dopo di questo, perché là c'è uscita una cosa abbastanza lunga, quindi metterla nel Wiggly Vlog sarebbe diventata veramente una cosa assurda, e vi volevo far vedere, come avete forse già visto, queste cosine qua che abbiamo trovato, se vi ricordate, io queste qua stavo aspettando, quando vi ho fatto vedere il volantino della Lidl, dovevano uscire, devono uscire il 25 da Lidl queste qua, queste qua, queste è mango e melograno, sono dell'angelica e sono bio, e poi c'è quest'altra che è, ragazzi, i miei pere e cannella, e quindi io amo questa, io mi sto fissando con la cannella a sto periodo, non so perché, io prima quando ero piccolina non la sopportavo, ma la metto ovunque, quindi figuriamoci, io le ho trovate a 2,90 euro, vabbè non è la fine del mondo, le ho prese perché poi, comunque non sapevo quando sarei passata da Lidl, ma se domani, dovessi riuscire a passarci, se mi piacciono tanto, io me le vado anche a prendere altre, però volevo prima provarle, perché io ho sto vizio brutto, che faccio scorta della ogni cosa, poi magari non mi piacciono tantissimo, e sto riprendendo, insomma questa abitudine, di prendere la tisanina la sera, anche perché in questo periodo, stando un pochettino in restrizione alimentare, insomma così, e giustamente magari la sera, mi viene voglia di dolce, la sera mi viene voglia della qualsiasi, quindi cerco comunque di attutire, un pochettino le voglia, così con tisane, tisanine, magari ci metto un pochino di dolcificante, su cose che non si può fare, ma non ci fate caso, e quindi così, è la prima che sto provando, perché l'ho aperta praticamente con voi, questa qua l'ho aperta con voi, questa qua è ancora chiusa, quindi magari poi vi farò sapere, sulle stories, come, insomma se mi piace o meno, però, riprovo, no perché, ma che faccio faccio, vabbè, no perché io prima di dirvi, è buona, non è buona, devo pure, allora, pensavo si sentisse di più la cannella, e invece si sente stranamente la pira, quindi, devo dire che, non è male, veramente non è male, perché magari, se a voi la cannella, non piace particolarmente, si sente il retrocusso, però io ci sento di più la pira, quindi stranamente, se non vi piace la cannella, magari provatelo lo stesso, vediamo che cosa c'è dentro, vabbè, la cannella è al primo posto, poi c'è la mela, aroma naturale, rooibos, che lo infilano dappertutto, che non so che cacchio sia, sostanze con effetto nutritivo e fisiologico, per filtro di cannella, 865 mg, vabbè, comunque raga, mi piace, meno male, ma non vedo l'ora di assaggiare questa qua, e quindi poi, magari vi farò sapere, sempre sulle stories, su instagram, seguitemi, pure per i nuovi iscritti, se vi fa piacere, io ogni tanto metto qualche stronti, qualche, stavo dicendo da brutta cosa, qualche festaria, qualche cosa, un po' così, sulle stories, ogni tanto, ma poi poi non sono una persona seria, quindi metto cose a casaccio, non posso mettere cose serie, più e più delle volte, però insomma, se vi fa piacere, mi seguite pure su, su instagram, insomma, ogni tanto mi faccio veri, mi seguite, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora oggi è sabato e io sono in condizioni come potete vedere pura avanguardia per fare i capelli mossi e treccia. Mi sono fatta due trecce e me le sono qui attaccate qui sopra sulla cocozzetta e quindi adesso stavo praticamente accingendomi a fare il cambio di stagione. Però dato che è un pochino tardi perché io stamattina mi sono svegliata presto ma mi metto a fare altre cose quindi mi è venuto in mente fammi costruire. Chi mi ha fatto fa queste queste cose qua insomma me le dovevo diciamo costruire vi giuro che io vado a pia sempre cose per cui mi servirebbe una laurea in ingegneria meccanica perché ci ho messo mezz'ora per farne per costruirne solo una. Ah e poi oggi pomeriggio dovrebbe se tutto va bene arrivare il frigorifero nuovo io non vi avevo parlato di questa cosa nello scorso vlog comunque siamo andati con mio padre a vedere per un frigorifero nuovo. Ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno però diciamo che è stata una spesa abbastanza pesantuccia però serve perché praticamente noi abbiamo e non sto scherzando un frigorifero degli anni 60. Io vi ho detto che casa mia è anzianuccia così come poi ovviamente gli elettrodomestici quindi è un signor frigorifero che ha funzionato tanto tempo però sinceramente sulla bolletta mi costa come diciamo che se io lo mettessi sullo stato di famiglia mi costerebbe di meno. Ecco perché non è classe a quello sarà classe c meno meno c'è una cosa assurda e noi abbiamo preso uno classe a più più della samsung e non vedo l'ora che arrivi però il problema è che io lo devo mettere a posto. Beh e quindi dato che lo devo mettere a posto e mamma mia non ci voglio pensare devo togliere tutte le cose dal frigorifero vecchio lo dobbiamo spostare quindi lo dobbiamo prendere spostare fisicamente insiccare mettere dentro un'altra volta quello nuovo e iniziarlo ad utilizzare perché poi bisogna pure vedere se fu un onzi o non fu un onzi a sto coso perché se no corna lo dobbiamo mandare indietro. E quindi si deve mettere subito in funzione e capire come funziona poi magari se vi fa piacere ve lo faccio vedere giusto così però non vedo l'ora di fare un what's in my fridge perché poi magari se con questo frigorifero qua non me la sono sentita di farlo perché è vecchissimo ragazzi c'è cade a pezzi però moca mi arriva il frigorifero nuovo anzi ditemi sotto se vi potrebbe far piacere poi un eventuale what's in my fridge ma questo sudan credetemi ragazzi c'è un vento pazzesco fuori ed è un vento però che se tu sei fuori ti pigli la febbre ok però è un vento strano una volta è freddo una volta è caldo stiamo avendo delle giornate stranissime veramente stranissime tanto è vero che io ho un pochino di otite si sta iniziando a far sentire perché ovviamente otite otite vabbè comunque no non ci fate caso otite ok che si fa sentire no perché si ode no va fatica che meglio mi vado a fare no vi voglio far vedere il vento che c'è a casa ragazzi allora finalmente ho trovato uno stand siamo qui con santo subito lo vedete santo subito saluta santo subito fai così fai così si sceghera fai così ciao ciao non fai vedere la mano ciao saluta oh quanto è bravo sono finalmente ho trovato uno stand mister wonderful la gente che tengo io non ce l'hanno però no non sono agendine sono dei libricini e su agenda si 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 fanno le penne guardate quanto sono carine no vabbè però è piccolino quanto costa e me lo sono mandato a prendere su alliexpress non c'è molta scelta come mister wonderful ci hanno più che altro le tazze queste cose però meglio di niente guardate quanto sono belle queste cose perché mi piacciono queste cose no non è il prezzo 8 euro 8 euro guarda questi amore guarda queste cose guarda queste cose questo questo quando costano le tazze vita mister wonderful non gestire 13 e 95 vedi hanno queste qua amore queste di questa legami legami no però è piccolino lo stand mister wonderful anche se è il primo che vedo in vita mia quindi già è tanti sinceramente cioè guardate questa regalatemi questa parete c'è sotto le borse trussardi però guardate che sconto c'è proprio ecco sì che ero comunque sai però 70 euro c'erano 390 euro questo è molto bello sì 80 da 400 e anche se so truccare si prezzo ma non penso che c'è anche se so truccare c'è anche se so truccare Amici miei, buongiorno. Oggi è lunedì e io sono qui con il mio amico Paperino e l'amico Stendino, tuttino, per, insomma, salutarvi. Oggi una nuova giornata è partita, è schierata, come si suol dire, qua, perché fa schifo anche stamattina. Mamma mia, stanotte è stato bruttissimo perché c'è stato un vento fortissimo, acqua che non vi dico, quindi praticamente io poi ho dormito male 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 perché ieri ho mangiato una pizza buonissima, ma io sono sempre più convinta di avere qualche intolleranza minima al lattosio perché non so, non mi so rendere conto di che cosa mi abbia potuto fare male, anche perché pur santo subito l'ha mangiata, quindi lui è stato benissimo, sicuramente credo sia di peso dal fatto che c'era mozzarella normale, provola affumicata, io di solito la tolgo, ieri poi ho fatto schifo e l'ho mangiata tutta quante ed ecco che questa notte alle 5, Rosa se l'è fatta, diciamo, non voglio essere volgare, ma sveglia, molto sveglia, diciamo così, molto sveglia. Detto ciò, però sabato sera è arrivato il frigorifero nuovo e ve lo volevo far vedere, anche se è nuovo e fermo, cioè sta fermo, io ancora non ci metto la roba dentro, comunque ve lo voglio far vedere perché io sono rimasta molto contenta di questo cambio, ve lo faccio vedere. Ed eccolo qui, signori e signori, non si vedrà una gran cip, perché io ovviamente non vi faccio vedere la cucina, ma perché a me la cucina non è una cucina, insomma noi abbiamo un cucinino a casa, ve l'ho detto che è casa mia un po' antichella, ed è arrivato uno spiraglio di luce, vabbè, comunque ho scelto questo modello qua che è praticamente un Samsung, però io ancora non ci metto niente dentro, perché, ditemi se è una scemenza o è così, però io penso che se me l'hanno detto, lo hanno detto a mio padre, ci sarà un motivo, praticamente questo tipo di frigoriferi va, una volta posizionato lì dove dovrebbe stare, va tenuto, insomma, prima di utilizzarlo dovrebbe stare almeno, almeno una giornata fermo. È un Samsung e si regola qua sopra, io non ho la più pallida idea di come si faccia, è di questo colore qua, che io non so se voi adesso lo riuscite a vedere bene, perché la luce fa un pochino schifo. Aspettate che magari vedo se posso mettere il flash, sì, ecco qui, vedete che ha questo effetto particolare, e magari se lo mettevi prima il flash rosa facevamo anche un po' prima, comunque ha questo effetto che i signori della Samsung mi chiamano effetto marmorizzato color sabbia, voglio sapere i signori della Samsung dove si procurano la roba, perché deve essere molto buona, comunque di qua invece è semplice, praticamente questo effetto qua marmorizzato, come lo chiamano loro, io insomma lo so che sono forse più carini quelli tutti di questo colore, insomma, sapete quelli fatti interamente, come posso dire, interamente siamo silver, insomma, vabbè avete capito, no, di questo colore qua. Ci stava anche questo modello in questo colore, tipo argentato, insomma, argento, non lo so, non fate caso alle unghie che non sono sporche, ma sono praticamente spaldate, scatastate, cioè fanno schifo, infatti non ho messo nemmeno lo smalto, perché, cioè vabbè, ho messo solo un poco di smalto lucido, quello indurente, perché se ne stanno saltando, che è una bellezza. Comunque, ritorniamo al nostro amico frigorifero. Il frigorifero, qui in questione, l'ho voluto in questo colore, perché a me piaceva tantissimo, cioè a me questo effetto qua piace veramente troppo. Apro l'amico frigorifero e vediamo com'è dentro, eccolo qui. Allora, prima cosa vi devo chiedere, cortese mound, se mi fate, cioè insomma, mi dite come fare per togliere questa puzza di cinesata morta, cioè proprio quella cosa di plastica pesante, che io sinceramente non so come toglierlo. Qui c'è anche the movable ice maker, è una cosa di plastica per fare il ghiaccio, però se la tira e quindi vabbè. In ogni caso, qui, questo qua, insomma, io queste tecnologie non le ho mai viste in vita mia, per me questo è il non plus ultra della tecnologia della Samsung, perché praticamente io avevo un frigorifero degli anni 60, non vi sto a pigliare in giro, veramente tenevo un frigorifero vecchio. L'unico problema è che sto frigorifero è stupendo, cioè è proprio formato famiglia, ma una famiglia grande. Infatti per me è enorme sto frigorifero, cioè ci potrei pure dormire dentro, ma non mi sembra il caso. L'unico problema è che c'è questo odore proprio di plasticum, che se mi fate la cortesia di dirmi, perché io praticamente l'ho, non so se ho sbagliato, però l'ho passato un pochettino con acqua e aceto di mele, giusto per pulirlo, per, come si dice, disinfettarlo, no? Comunque per togliere, diciamo, perché a me fa schifo metterci le cose dentro, ecco. L'ho fatto due volte questo passaggio, quindi è pulito. Il problema è che non se leva sta puzzo di cose, di plastica. Io praticamente lo volevo lasciare un pochettino aperto, così, giusto che, però, cioè, l'ho lasciato aperto mezza giornata, ma manco si è levata sta puzzo, così, quindi, ditemi come posso fare, perché sinceramente non ne ho la più pallida idea. E nulla, io vado a chiudere questo vlog con una chicca dei signori San Mesunghe, che quando mi hanno fatto questo bellissimo manuale, diciamo, utente, per, insomma, carpire le informazioni più intime del frigorifero, a parte il fatto che hanno usato un carattere che su Word corrisponde, praticamente, alla, diciamo, alla grandezza 1400, io dopo, insomma, sono andata a vedere come pulire questo coso, ma questa chicca veramente mi fa capire che lo spacciatore dei signori San Mesunghe è veramente uno potente, perché, cioè, non collocarvi candele accese per eliminare i cattivi odori. E dopo di ciò io posso chiudere questo manuale di informazioni, insomma, per quanto riguarda la manutenzione del mio frigorifero, vado a togliere la puzza di plastica cinese dei signori San Mesunghe, andando ad accendere una candela profumata, no, scusatevi, non si può fare, ma io ci avevo pensato a farlo, ma chissà perché. E nulla, ragazzi, vi lascio con il mio caro manuale qui, che, diciamo, queste frasi mi fanno capire quanto possa essere utile effettivamente questo manuale. E nulla, ci sentiamo, ci vediamo in un altro video, o in un altro vlog, se vi fa piacere. E nulla, grazie per la compagnia che mi avete fatto, e come sempre scrivetemi sotto, insomma, che cosa vi è piaciuto, se avete consigli, quello che volete, pur se mi scrivete ciao, io sono contenta. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo presto, ciao!